C'è stata una richiesta di tutti quanti di ritirare immediatamente quella cittadinanza, di cui ancora non ci spieghiamo le ragioni. Noi dalle opposizioni in questo momento non stiamo riuscendo a trovare delle informazioni chiare sullo stato della richiesta della cittadinanza di Jair Bolsonaro, quindi quello che abbiamo fatto intanto è di presentare un'interpellanza urgente al governo, al ministro degli esteri per avere chiarezza. In questo senso la discuteremo venerdì 13. Dobbiamo verificare nel momento in cui avremo i fatti concreti in mano, indagheremo anche tutte le vie legali per capire se si può fare di negarla. Penso che la Meloni dovrebbe fissare subito un incontro bilaterale con Lula per dimostrare vicinanza e dimostrare di aver compreso i cambiamenti politici che ci sono stati in Brasile, perché altrimenti se si sta in silenzio si rischia di avere un atteggiamento di complicità con quello che è successo. Allora, quello che sta succedendo al momento è ancora confuso. Noi dalle opposizioni in questo momento non stiamo riuscendo a trovare delle informazioni chiare sullo stato della richiesta della cittadinanza di Jair Bolsonaro. Quindi quello che abbiamo fatto intanto è di presentare un'interpellanza urgente al governo, al ministro degli esteri per avere chiarezza. In questo senso la discuteremo venerdì 13. Nel caso la cittadinanza dovesse venire presentata diciamo che avrebbe sicuramente un grande valore politico, quindi io penso che sarebbe molto importante che la discussione innanzitutto passasse per il Parlamento e in questo senso noi faremo dura opposizione. Poi è tutto da vedere perché purtroppo le informazioni che abbiamo non sono assolutamente precise, quindi aspettiamo di vedere come si muoveranno, vediamo cosa diranno venerdì e sicuramente ci terremo in contatto sul da farsi. Noi faremo opposizione nel caso. Penso che sia più una questione di pressione. Dobbiamo verificare nel momento in cui avremo i fatti concreti in mano indagheremo anche tutte le vie legali per capire se si può fare. Sì, guarda, non credo che sia stata una questione di non riconoscimento perché non possono permettersi di non riconoscere il risultato delle elezioni democratiche, ma penso che sia stata una scelta assolutamente politica. L'Italia è stato l'unico grande paese che non ha inviato una propria rappresentanza alla cerimonia di insediamento del neoeletto presidente Lula e rimane inspiegabile. Sarebbe una disattenzione molto grave se fosse una disattenzione, ma la verità è che sappiamo tutti che c'è una simpatia delle forze politiche che ci governano per Bolsonaro. L'hanno dimostrata sia Meloni che Salvini in più occasioni e quindi non stupirebbe se fosse stata una scelta in fin dei conti ragionata per non voler dare vero peso e riconoscimento al presidente Lula.